Torna puntuale anche la prossima settimana a Casa Italia 2, il seguitissimo appuntamento dedicato all'approfondimento giornalistico, in onda ogni lunedì e giovedì sui nostri schermi televisivi e resa ovviamente disponibile anche sul nostro sito web. Sta riscuotendo grande successo il nuovo talk show che vede di volta in volta protagonisti gli ospiti che vengono a trovarci nei nostri studi di Sant'Arsenio, per discutere temi di interesse collettivo ma anche per raccontare piccole o grandi storie più o meno conosciute ma sempre significative. Anche nella settimana tra l'11 e il 17 dicembre vi proponiamo due puntate particolarmente interessanti, a partire dal lunedì 11 dicembre quando Casa Italia 2 vedrà protagonista Enzo Darco, conosciutissimo attore, regista e autore teatrale attualmente impegnato oltre che con la Cantina delle Arti anche nella direzione artistica della nuova stagione teatrale dell'auditorium comunale Massimo Troisi di Casalbuono. L'incontro con Enzo Darco, attento osservatore della realtà quotidiana, è anche l'occasione di spaziare a 360 gradi e parlare oltre che di cultura anche di temi importanti quali il territorio, il popolo e addirittura la libertà. Questo e molto altro a Casa Italia 2 con Enzo Darco lunedì 11 dicembre alle 9.30 ed in replica martedì alle 15 e mercoledì alle 21. Giovedì 14 dicembre alle 9.30 spazio poi al secondo appuntamento della settimana che vedrà protagonista Giuseppe Pisano, presidente dell'Associazione Protezione Civile Vallodidiano di Padula. Sotto i riflettori l'importanza del mondo del volontariato e le tante importanti attività svolte per la comunità dalla protezione civile padulese. Attività svolte non solo in Campania ma in tutta Italia, sempre in aiuto dei cittadini in difficoltà, grazie alle tante specializzazioni ottenute nel corso di questi anni che in situazioni difficili hanno anche salvato la vita i volontari padulesi e i loro assistiti. Non solo buona volontà e amore per il prossimo dunque, ma anche tanta attenzione alla formazione perché in circostanze di emergenza la professionalità può fare la differenza tra la vita e la morte. Questo e tanto altro con Giuseppe Pisano a Casa Italia 2 nella scoppiettante puntata in onda giovedì 14 dicembre alle 9.30 e in replica venerdì alle 15 e sabato alle 21. Come sempre siete tutti invitati a Casa Italia 2.